Ok ragazzi, oggi, sorteggi di Europa League, o anzi abbiamo tre italiane su otto, quindi posso scelere di tutto, e soprattutto vi leggo adesso appunto le squadre e poi vi dico i miei accoppiamenti, spero che non succeda come è successo in Champions, andate a recuperare il video perché là finisce male, non vi dico quante ne ho azzeccate ma ci sono delle partite clamonose, andate a recuperare il video. Allora, le squadre sono Atalanta, Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Marsiglia, Milan, Roma e West Ham, minchia, abbiamo l'Atalanta che comunque il suo quest'anno lo sta facendo in campionato, il Benfica che non mi sta esmozionando tanto, dall'altra parte il Bayer Leverkusen è una squadra di rivelazione dell'anno, proprio in generale non solo del campionato tedesco, il Liverpool sta facendo il suo comunque in Premier League, quindi occhio al Liverpool, il Marsiglia non mi ispira fiducia, soprattutto quello che è successo ieri con il Villarreal che ha rischiato fino all'ultimo che la pareggiasse per la 4-0 in totale, è arrivato fino al 3-0, purtroppo hanno preso il 3-1, occhio. Il Milan, la squadra ce l'ha per vincere l'Europa League, però dietro certe volte balla in malo modo, bisognerà capire Magnan come sta, quindi attenzione anche a Magnan. La Roma per me quest'anno può arrivare in finale senza problemi perché c'è una squadra che è un caro armato, De Rossi è il migliore allenatore del mondo, guardiola, spostati, e il West Ham è la solita squadra inglese, in modo rognoso ancora più del Liverpool e lo sa bene la Fiorentina. Andiamo. Per me gli accoppiamenti saranno Atalanta-Milan, così, derby italiano facile, Roma-Liverpool, brutti ricordi, Bayer Leverkusen, Benfica e Marsiglia-West Ham. Occhio, io spero che non si becchino subito le italiane, magari in semifinale, così uno arriva in finale come è successo per il Champions League l'altro anno, però occhio, vediamo. Ok, eccoci qua, attenzione. Esce subito il Milan, così, di botto, pum pum pum, è la Madoska. Calma, Milan. Io gli ho messo l'Atalanta, se becca veramente l'Atalanta, qua Pioli mi uccide. Vediamo, vediamo chi sarà. Roma. Milan-Roma, però ho beccato che si beccavano le italiane, anche perché la probabilità era abbastanza alta, però. Milan-Roma. E qua? Occhio. Occhio perché il Milan davanti è ben messo e la Roma è ben messa davanti. Dietro fanno tutte e due abbastanza schifo, senza offesa per due squadre, vi voglio bene, ma dietro abbiamo un po' di buchi, eh? Ve lo dico, in amicizie. Prossimo. Liverpool. A sto punto il Liverpool non può prendere la Roma, ovviamente. Spero a sto punto che non prendi l'Atalanta, ma che prenda il Bayern che c'è. Ce ne togliamo una grossa. A sto punto per l'Atalanta che si becchi... Il Marsiglia, dai, se deve uscire per l'Atalanta. Vediamo Liverpool versus... Atalanta, ma porca put... Mannaggia. Però, occhio, perché io vi ho detto che gli due italiani si beccavano e un'italiana prendeva il Liverpool. Quindi, magie. Madonna mia. Sinceramente preferivo sbagliare. Mannaggia, il Liverpool-Atalanta. Però occhio all'Atalanta che non so mai, questi qua sono capaci. Per quanto il Liverpool, per me quest'anno vince facilmente l'Europa. Prossimo. E il Bayern? Beh, tecnicamente può succedere però che il Bayern becchi il Benfica, scusatemi, il Marsiglia becca il West Ham come l'avevo pronosticato. Occhio. Perché qua finisce malissimo. Queste le azzecco, queste due... Sono un mostro. No, West Ham. Bayern-West Ham. Eeeh, carina, eh? Occhio al questo West Ham che comunque è il suo e lo fa sempre in Europa, però il Bayern... Non so mai. E di conseguenza sarà Marsiglia-Benfica. Ammazza che quarta di finale del cacchio. A questo punto sarebbe bello che sia Mila-Roma contro il Liverpool-Atalanta come vincenti. Eeeh, perché almeno una squadra italiana ha una possibilità del 25% di arrivare in finale. Come è successo appunto l'altro anno. Non lo so. Perché il Liverpool quest'anno è veramente una schiacciassassi. L'abbiamo visto comunque. Vabbè che ha giocato contro lo Spartak-Praga che... Si sono fatti più gol da soli praticamente che altro. Però... Occhio. Ok ragazzi, abbiamo gli accoppiamenti. Abbiamo la vincente di Benfica-Marsiglia che andrà contro la vincente di Liverpool-Atalanta. Quindi io vi dico che se l'Atalanta dovesse passare con il Liverpool, può arrivare in finale. Può arrivarci. Però un ostacolo com'è il Liverpool... Eh... Giocare a Danfield... Però è la prima, Danfield. Quindi se magari riesce a tenere un pareggio... Non lo so. Occhio. E di conseguenza sarà la vincente di Bayern-West Ham contro la vincente di Milan-Roma. Porca miseria. Beh, di sicuro almeno una italiana in semifinale ce l'abbiamo, però... Facciamo così. Io vi dico che secondo me l'accoppiamento Milan-Roma e Bayern-West Ham per me un'italiana, a seconda di chi passa, arriva in finale. Perché ce la può fare senza problemi. Perché l'Evercuse non l'ho visto bene in Coppa. Per niente. In campionato è un'altra cosa. E l'West Ham... Sì. Buono davanti, ma dietro è un po' bacillato. Quindi attenzione. Quindi io vi dico che una tra Roma e Milan arriva in finale. E secondo me l'Atalanta, se torna il decetelare che abbiamo visto fino ad adesso, e lo fa appunto anche in Europa, può portare la squadra appunto Bergamasca in finale, io ve lo dico. E vedere una squadra italiana contro l'altra italiana in finale, io vi porto la reaction, ve lo dico. Occhio. Quindi speriamo per le italiane. Va bene ragazzi, che dirvi. Vado a fare la reaction dei sorteggi di Conference League. Speriamo bene per la Fiorentina. Ci becchiamo fra un po'. Probabilmente unirò insieme, dipende quanto durerà questo video. E ci becchiamo appunto fra poco. E forza italiane, dai! Proviamo a riprenderci la finale, visto che purtroppo in Champions non ce la faremo di sicuro. Perché non abbiamo neanche una squadra, e lì mortaci su. A fra poco. Ok ragazzi, facciamo reaction ai sorteggi di Conference League. Speriamo per la Fiorentina che vada bene. Prima di iniziare vi leggo velocemente le squadre, e poi vi dico secondo me quali saranno gli occupiamenti. Vediamo se riesco a fare un bordello anche qua, come è successo negli altri due episodi. Andate a recuperare come puntata della reaction. Lasciamo perdere. E speriamo bene per la Fiorentina. Allora, le squadre sono Aston Villa, Club Rouge, Fenerbahce, Fiorentina appunto, Lille, Olympiakos, Pauk e Victoria Pölzen. Allora, sulla carta, la Fiorentina può arrivare in finale. Però occhio, perché ci sono tante insidie, sono tutti calci di rigore, lo sappiamo. Perché la Fiorentina ha tolto l'Inter, è una delle squadre che non è che vanno bene. Quindi, attenzione. Allora, per me sarà Fiorentina-Lille. Purtroppo, secondo me, prenderà proprio il Lille. Quindi la squadra più rognosa, secondo me, di questo... Insieme all'Aston Villa, più rognosa che può beccare. Poi sarà Olympiakos-Pauk, esoticissima. Fenerbahce, Club Rouge, e per concludere, Victoria Pölzen-Aston Villa. Vediamo se le azzeccherò tutte, vediamo se la Fiorentina ci avrà fortuna. Speriamo che non becchi veramente o Aston Villa o Lille, perché potrebbe finire male. Andiamo. Ok, prima squadra estratta, Club Rouge. Occhio! Il Club Rouge affronterà... Vediamo, vediamo, vediamo... Il Pauk! Io ho detto Fenerbahce... Versus il Pauk. Vabbè, questi qua non ce ne frega tanto, anche se, sinceramente, avrei preferito una delle squadre che beccasse la Fiorentina. L'Olimpiakos affronterà... Il Fenerbahce. Non è un buon segno per l'italiana. Per lei, italiano, soprattutto. Perché resta Lille, Victoria Pölzen-Aston Villa. Fa il Victoria Pölzen per la Fiorentina. Ti prego, si becca Lille e Aston Villa che si eliminano. Ti prego. Aston Villa. Ok. Aston Villa, ti prego, tira fuori Lille da quella prossima pallina, perché sennò finisce male. Che almeno così è. Fiorentina-Victoria Pölzen, e ce la possiamo sfangare. Non è detto, dipende dalla Fiorentina, ovviamente. Scelta la pallina, sta effettuando l'apertura, col cane che fa bordello, perché sa già tutto, ha previsto il futuro, occhio, ed è... Il Lille! Che botta di culo! Bellissimo! Aston Villa-Lille, bellissimo! Vuol dire che sarà Victoria Pölzen-Fiorentina. E questa sì che è una botta di culo per l'italiana. Finalmente. Per l'italiana, vabbè, l'italiano ormai è andato col paese. Quindi sarà Fiorentina-Victoria Pölzen, solo capire chi gioca la prima in casa, ovviamente. E Victoria Pölzen la prima in casa. Occhio! Ok. Di conseguenza Fiorentina. E quindi, Club Bruges-Pauk, Olimpia-Cospernerbac, Aston Villa-Lille e Victoria Pölzen-Fiorentina. Allora, finché aspettiamo gli accoppiamenti, Club Bruges, secondo me, passerà contro il Pauk, perché sta facendo bene. Olimpia-Cospernerbac, secondo me sarà una bella partita, ma alla fine la squadra del vecchio Edin Dzeko arriverà al turno successivo, e secondo me con un gol fondamentale proprio dal nonnetto. Aston Villa-Lille. Allora, sapete che c'è un dubbio, perché Lille è una squadra rognosa, è tutto, però il DNA, secondo me, delle squadre inglesi farà il suo sporco lavoro e secondo me per questo passerà l'Aston Villa. Occhio, passa a Lille, facile. Tra Victoria Pölzen e Fiorentina, oh, ragazzi, io vi voglio un bene dell'animo a Fiorentina, ma se mi passate con Victoria Pölzen, no? Quindi, forza Fiorentina, e adesso speriamo negli accoppiamenti, perché se beccate la vincente di Aston Villa-Lille qua potrebbe essere un problema. Andiamo. Ok ragazzi, abbiamo gli accoppiamenti, quindi, la vincente di Aston Villa-Lille affronterà la vincente di Olympia-Cospernerbace. Eeeh, occhio che la Fiorentina può tornare in finale, perché se vince contro la Victoria Pölzen, sfida la vincente tra Club Rouge e Pau, che possiamo dirlo, non è Real Madrid e City. Però per quanto riguarda la Fiorentina, ultimamente sta sprecando tanto in campionato come occasioni, quindi calma. Però io voglio la Fiorentina di nuovo in finale e che vinca la competizione, soprattutto come in Europa, scusatemi, che vinca una squadra italiana. Purtroppo in Champions, come sappiamo, non ce la può fare nessuna, perché tutte e tre le squadre sono andate a casa. Madonna mia che figuraccia. Vabbè ragazzi, che dirvi? Occhio. Occhio perché qua finisce malissimo, secondo me. Però forza squadre italiane, bisogna crederci. Almeno passare un turno, sempre pre-ranking. Vabbè ragazzi, che dirvi? Spero vi sia piaciuto, molto probabilmente questo video sarà unito a quello dell'Europa League. Non lo so, dopo vedrò in editing, penso di sì, vi sono i minutaggi, però farò qualche taglio. Vabbè ragazzi, che dirvi appunto? Lasciate un like, commento e iscrizione, se lo fate di cercare di piccoli classico telecomando, vi ricordo di seguirmi qua su Instagram, qua su YouTube, anche su Tokyo, se non lo fate, la vostra squadra del cuore esce dall'Europa, se non è già uscita, e soprattutto non ci andrà mai, se ti fate magari una squadra che non va facilmente in Europa, non ci andrà proprio mai. O retrocede direttamente, perché arriva la finanza a casa e vi caccia a tutti. Occhio, perché ci succede, è clamorosissimo. Quindi ci succede, come dico la prediction, mamma mia. Ciao. 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 Ciao.